Io, al di là delle difficoltà del momento, che ci possono essere più o meno, prima della partita Corriere Madrid dissi che qualsiasi risultato scaturiva dalla Bernabeu sarebbero state importantissime le prossime tre partite. Sono dello stesso avviso, non smentisco quello che ho detto. Noi veniamo da tre vittorie consecutive in campionato, vittorie belle, schiaccianti. Ci apprestiamo a vivere una partita molto bella, fondamentale per il prosieguo del turno. Come ho sempre detto, dovremmo dimostrare sul campo, così come abbiamo dimostrato a Madrid, di meritare e di andare avanti in Champions, altrimenti saremo i primi ad alzarci e ad applaudire chi lo farà al posto nostro.